Quando non si hanno argomentazioni politiche talvolta si ricorre ad opzioni fantasiose come quella di indicare uno che alza il braccio sinistro accusandolo di fare il saluto romano. Far passare per fascista qualcuno di questi tempi va di moda, intanto si svia l'attenzione da urticanti fatti concreti. L'episodio è avvenuto a Gragnano Trebbiense nel Piacentino, dove il malcapitato consigliere di opposizione Vincenzo Girometta lamentandosi della locale amministrazione a guida PD. Durante un vivace intervento, oltre che ad alzare il braccio sinistro, ha sostenuto che con essa si deve credere, obbedire e combattere. Qualcuno in aula lo ha invitato a non usare espressioni riconducibili al fascismo come se l'accusato fosse lui e non la giunta che egli legittimamente contestava il comune di. Gragnano Trebbiense ha residui attivi per 1.700.000 euro, soldi che l'ente non riesce ad incassare e intanto ricorre ad anticipazioni di cassa.